Nasce in questi giorni di emergenza una nuova proposta da parte della tecnica della scuola con il gruppo di scintille.it, in particolare l'idea di affrontare assieme alcune tematiche di carattere psicologico che in tempi di emergenza da coronavirus possono essere davvero importanti da approfondire. Faremo assieme un po' di strada, io sarò la vostra ospite e vi accompagnerò attraverso quelli che sono dei meccanismi psicologici particolarmente utili da conoscere teoricamente e magari da cominciare ad utilizzare per sviluppare il proprio sistema immunitario psicologico con l'obiettivo di stare bene persino in tempi di crisi.